Posso? Ciao, sono Lara e sono una mamma. Ah, non è un video di mamme? Prima facevo la grafica, ora sono mamma, grafica, videomaker freelance e probabilmente fra un po' single perché sono un po' poco casalinta. Per mettere a posto un meetup al processo creativo. Sto facendo questo video perché qualche settimana fa, dopo aver visto l'ennesimo video di texting story e aver scoperto che bastava scaricare l'app per farne uno, ho deciso di farne uno su un'ipotetica conversazione tra grafica e cliente. Non ho usato grande fantasia, ho solo preso ispirazione da varie esperienze e storie di vita vissuta, ma non pensavo di avere così tante visualizzazioni e condivisioni. Così ho avuto un'idea. Perché non parlare e condividere quello che veramente succede ai grafici? Il difficile mondo dei creativi, quel mondo dove tutti credono che non facciamo un cazzo, che non capiscono cosa facciamo, ma che credono sempre di saperne più di noi. Parliamo, condividiamo e vogliamoci bene perché diciamoci la verità, siamo talmente stressati che siamo diventati una categoria di acidi repressi, ma in realtà perché nessuno ci capisce. Detto questo ho deciso di fare una serie di video che parla proprio di quello che succede dietro un monitor, un po' per sentirci meno soli e un po' per far capire a chi non fa parte di questo mondo come ci sentiamo e un po' per perdere anche i miei clienti probabilmente dopo che avranno visto questi video. Quindi spero che mi seguirete su Facebook e su YouTube, il prossimo video parlerà di clienti. Farò una classifica di clienti, vari tipi di clienti. Al prossimo video, ciao!